Buongiorno da FTA Online, avvio incerto questa mattina per i principali mercati azionari, abbiamo un Fuzi Mib in crescita dello 0,38% circa a 620 punti ed un DAX che in questo momento guadagna lo 0,03% a 11.816 punti, c'è attesa per la conclusione della riunione della Fed nella giornata di oggi, non tanto perché si attendono novità sul fronte dei tassi di interesse, ma soprattutto sulle indicazioni che potrebbero provenire dalla Banca Centrale su una tempistica di futuri rialzi, atteso anche il dato del PIL americano relativo al primo trimestre con aspettative di una crescita non particolarmente brillante. Questa situazione di attesa si riflette anche sul comportamento dell'indice Fuzi Mib che dopo aver messo a segno lunedì una decisa fase rialzista, ieri invece è ritornato sui propri passi annullando quasi completamente i guadagni della giornata precedente. Il quadro grafico resta improntato ovviamente a rialzo, siamo positivi dai minimi di dicembre, esistono tuttavia degli elementi che fanno temere che quella intrapresa dal massimo del 15 aprile non sia solo una pausa temporanea dell'up trend, ma una vera e propria fase correttiva che deve quindi ancora svilupparsi. Ci sono elementi che suggeriscono di guardare con prudenza all'indice, in questo caso ad esempio guardiamo l'indicatore RSI a 14 sedute sul quale si possono studiare tendenze esattamente come si fa sul grafico dei prezzi e in questo caso si vede come la linea di tendenza che parte dei minimi di ottobre sia stata messa alla prova a metà aprile, da quei livelli i prezzi e l'indicatore hanno cercato di mettere a segno un rimbalzo, ma rimaniamo pericolosamente vicini alla linea di tendenza, se questa dovesse venire violata il rischio di assistere a una discesa dell'indicatore fino almeno alla zona di pervenduto con conseguente calo dell'indice sarebbe molto elevato, notiamo anche la distanza della media mobile a 100 giorni rispetto ai prezzi, una distanza che è estremamente ampia in questa fase, se guardiamo l'indicatore costituito dalla pista ciclica calcolata a 100 sedute che non fa altro che evidenziare la distanza tra la media e i prezzi espressa in termini percentuali, ci accorgiamo che siamo su livelli molto bassi, se andiamo a guardare la attuale situazione vediamo che era stata avvicinata a una distanza di questa ampiezza solo nell'ottobre 2013 e quando questo era successo, quindi con la media molto distante e molto inferiore ai prezzi, successivamente si era avuto un'impennata dell'indicatore, ma una discesa del grafico dei prezzi, anche in quel caso una discesa che era stata correttiva rispetto al rialzo dei mesi precedenti. Quindi valutare con grande attenzione l'acquisizione di posizioni al rialzo sull'indice e utilizzare uno stop loss che a nostro avviso dovrebbe essere posizionato subito al di sotto della media mobile a 50 giorni che transita a 22,8 e 20 circa o al limite al di sotto del 23,6% di ritracciamento del rialzo dei minimi di dicembre a 22,590. Passiamo allo studio di alcuni titoli che hanno una situazione grafica interessante, iniziamo con Eni, per il quale Banca Imi ha prospettato un target a 15,40 Euro, quindi al di sotto dei livelli attuali pur con un giudizio neutrale. Abbiamo un titolo che nel corso del ultimo trimestre è salito con decisione, si è tuttavia scontrato proprio nelle ultime sedute con il 61,8% di ritracciamento del ribasso dei massimi dello scorso luglio. Questo livello di resistenza posizionato a 17,60 è stato toccato sia a metà aprile sia con i massimi di ieri, si è quindi venuta a creare una fase laterale proprio nel corso delle ultime settimane che potrebbe evolvere sia in senso positivo ma anche negativo, al di sotto dei minimi del 20 di aprile questa fase laterale si dimostrerebbe infatti un doppio massimo ed in quel caso diventerrebbe probabile una correzione di tutto il rialzo che abbiamo visto dai minimi di gennaio e di dicembre che più o meno sono allineati, con il rischio di un ribasso nuovamente verso i 15 Euro almeno. Se andiamo a guardare il posizionamento della media mobile a 100 giorni ci accorgiamo che in questo momento transita a 15,50-15,60, poco più sotto invece sono i minimi di marzo a 15,15 e questa è la fascia in cui in caso di scesa di sotto di 16,70 potrebbero andare a confluire i prezzi. La rottura di 17,60 serve invece un segnale molto positivo che permetterebbe il proseguimento del movimento rialzista con un primo target sul lato alto di questo canale crescente, quindi a 18,65 Euro e successivo il ritorno sui massimi dello scorso luglio a 20,45 Euro circa. Guardiamo infine l'andamento grafico di Finmeccanica per la quale Standard & Poor's ha promosso ieri l'outlook permettendo un'evoluzione positiva del giudizio. Siamo in questo caso in una situazione di tendenza laterale ormai dal massimo di marzo, tendenza laterale che ha un limite superiore a 12,03 Euro ed inferiore a 10,71 Euro. Il superamento del lato alto di questa fascia permetterebbe di considerare le oscillazioni dell'ultimo dimestre un rettangolo, rettangolo che si confermerebbe una figura di continuazione del trend rialzista che vediamo dai minimi del 2014 con un target che sarebbe proporzionale all'ampiezza della figura stessa, collocato quindi a 13,38 Euro circa. Se invece dovessimo assistere alla relazione della base della figura della fase laterale, quindi se dovessimo assistere a discese al di sotto del minimo del 26 di marzo a 10,71 Euro, in quel caso le oscillazioni dell'ultimo dimestre diventerrebbero un doppio massimo e in quel caso il target si sposterebbe a 9,35 Euro circa. Quindi in questa fase sicuramente si può rimanere positivi su Finmeccanica prima di sbilanciarsi in modo pesante a rialzo, però attendere la rottura di 12,03 Euro, 12,05 Euro per incrementare eventualmente le posizioni. Chi volesse invece intraprendere strategie di tipo diverso potrebbe aggressivamente o vendere su livelli attuali con uno stop subito sopra di 12,05 Euro oppure attendere la violazione di 10,70 Euro per intervenire in quel senso. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento per domani alla stessa ora.